sia roma ha sempre come dire operato nella nell'apertura nel cambio proprio di paradigma e questo diventa forse l'opportunità migliore per chi vuole conoscere il progetto e soprattutto diventare un artefice del progetto portarsi addosso un'esperienza così importante come quella dell'isia di roma del 1980 con uno staff di docenti e soprattutto una capacità di dialogare con l'esterno attraverso gli artefici di quel periodo dove la forma smetteva di appartenere strettamente alla rappresentare la funzionalità ma dove si iniziava a instaurare un dialogo tra gli oggetti d'uso nell'arredamento nel campo dei servizi e oggi in questa mutazione trasformazione dall'analogico al digitale dalla forgiatura alla fruizione dalla possibilità di parlare non solo di oggetti ma anche di servizi sempre nel nel tema di migliorare la vita e per tutti ai professionisti di domani e soprattutto ai laureati di isia roma auguro e soprattutto intravedo un futuro fatto di molteplicità grandi capacità di applicare un sapere e un dialogo che dalla scuola si trasforma poi in un'esperienza di lavoro con grande apertura soprattutto sul modo in cui sarà organizzato il design in cui si potrà prendere parte da progettisti soprattutto di quello che sarà la fruizione di un servizio di un prodotto nelle varie forme che la società digitale permetterà e questo è molto importante perché segna un cambiamento che dopo più di 40 anni sta generando una nuova una nuova professione che è quella proprio del designer come attore principale di un cambiamento di un modo di generare il nuovo circuito delle merci dei prodotti e dei servizi